E ancora polemica a Salerno per le condizioni del mare denunciate dai bagnanti che parlano di chiazze in acqua, schiume, mucillagini e problemi dermatologici dopo essersi immersi. Negli ultimi giorni sono arrivate le rassicurazioni ufficiali dell'ARPAC che ha precisato che le situazioni anomale che rappresentano un potenziale rischio di tipo igienico-sanitario sono sempre opportunamente indagate e valutate. In merito agli esiti ottenuti parte poi la comunicazione con l'amministrazione comunale che si impegna a prendere provvedimenti. Diciamo che se no si avvicina alla sufficienza, intorno alle 5 diciamo, volendoci dare un voto. Almeno da oltre due decenni di valori sono stati sempre questi. Il mare è comunque inquinato ovunque, ma almeno qua abbiamo l'impressione che sia l'imbido. Arrivato alle 11 e mezzo, 12 meno un quarto, puntualmente arrivano queste bolle bianche, evidentemente sono le barche che passano, scaricano, non lo so, ci vorrebbe un pochino più di controllo. Intanto soprattutto i salernitani non rinunciano a quella che per loro è ormai una tradizione il bagno in città. È un alternarsi di bene e di cattivo il male, però io abito qui e sto benissimo, non ho mai preso una malattia. L'inguinamento che dicono che la zona nostra è bandiera nera, come chiamano, dicono che fa queste verifiche, noi da che proviene, non lo so, dagli scarichi, noi non lo sappiamo. L'amministrazione che può dire, sa benissimo, dice controlleremo e poi si vedrà, non è che dicono guarda la causa è lo scarico di provvederemo, è abbastanza vago. È pulito.